Lugnano in Teverina è un comune in provincia di Terni con 1430 abitanti e nessun caso di Covid. Non ne registra dal 15 gennaio scorso, eppure da lunedì è uno dei comuni che costituiscono la microzona rossa dell'Umbria. Il paradosso è che il 3 febbraio, quando dichiaravano zona rossa il comune di Lugnano, mi arrivava dalla Asle praticamente le ultime tre guarigioni. Quindi qui tutti i cittadini siamo rimasti esterefatti e stupiti da questo provvedimento. Zona rossa vuol dire scuole, uffici e negozi chiusi, mentre barre e ristoranti sono aperti solo per l'asporto. Io le scuole chiuse una settimana, non ho fatto panini, non ho venduto la pizza, non ho venduto i succhi di frutta. Cioè sarà una stupidaggine, ma nel mio piccolo è un disagio che mi ha dato. Noi abbiamo contagi da diverso tempo, io non vedo il motivo. Libertà privata, perché voglio dire tutto così, vivi la giornata, non sai, psicologicamente stai male, perché vivi questa situazione molto male. Se serve ben venga, con dati alla mano, precisi. Io perché non ho un'attività, perché se c'è un'attività sicuramente sarebbe partita qualche denuncia, oltre a quelle che ha fatto sicuramente l'amministrazione comunale. La coalizione che governa Lugnano, che mettendo insieme PD, Lega, Fratelli d'Italia, Rifondazione Comunista, 5 Stelle e Forza Italia, va anche oltre la maggioranza che sosterrà il governo Draghi, ha presentato un ricorso alla regione. In questi giorni sarebbe dovuta arrivare la decisione che avrebbe riportato il paese in zona arancione. E invece, quasi certamente, arriverà l'ordinanza che passerà in zona rossa tutta l'Umbria. Una beffa. Con i numeri non bisogna giocarci, perché noi abbiamo l'uso in zona rossa con contagi zero, ma ci sono zone gialle che potrebbero avere i numeri e fare partire questa variante, e soprattutto per tutte le attività economiche. Bisogna stringere i denti e sperare di riuscire ad andare avanti così, ma è duro.